scusate mi sa che si è interrotto un attimo il video non so come è successo ho fatto tutto da solo ora l'ho ripreso però sicuramente sarà in due video mannaggia ecco avete visto che ho messo l'acqua fino a coprire i totani io ora copro rispetto che bolle e poi basso la fiamma allora amiche mie io i miei totani li ho corti dal fuoco sono cotti come vedete questo è il risultato ho lasciato un po di massimo e chiaramente c'è un profumino delizioso ora nel saggio il pezzetto queste sono le alette che avevo dimenticato di mettere dell'impatto nel saggio buono 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 buonissimo buono 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 amiche come sempre io vi dico questa ricerca che oggi vi è piaciuta il tuo gradimento dammi un like, a fare un commento e vi vedete anche se volete ok? ciao buona giornata e alla prossima ricerca ciao 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 ciao